Siamo arrivati, siamo arrivati alla partenza delle opere del tesoro della cattedrale di Palermo verso New York, un momento emozionante che vede raccogliere da quest'ambiente dedicato alla sala normanna del tesoro della cattedrale vede partire gli anelli che erano nella tomba di Costanza che facevano parte del corredo funebre dell'imperatrice Costanza d'Aragona, moglie di Federico II e poi che emozione, vedere in partenza il suo disco d'argento, il disco in cui era scritto il suo nome e quindi la placca identificativa del corpo dell'imperatrice che si stacca dalla sua cattedrale per andare per la prima volta in America, a New York questa mostra voluta dall'Istituto Italiano di Cultura di New York che raccoglie opere incredibili come anche il paliotto detto del carandolè che si trova qui, esposto solitamente nel tesoro della cattedrale e che raccoglie aquile di ervietà federiciana e che per la prima volta prenderà il volo verso l'America ieri le operazioni di imballaggio sono già iniziate a Monreale, nel Duomo dove abbiamo assistito all'imballaggio dell'icona di Guglielmo in cattedrale con una emozione incredibile poi al Museo Giocesano e poi nella Biblioteca Torres, oggi qui in cattedrale, al Museo Giocesano, all'Archivio Storico Giocesano è tutto pronto per questa grande mostra che appunto si terrà a New York voluta dall'Istituto Italiano di Cultura diretto dal professore Finotti Grazie